Buone notizie per gli amanti dello shopping. Da venerdì 5 gennaio in Campania partiranno i saldi invernali 2018. In realtà la prima regione a lanciarli è stata la Basilicata, dove gli sconti sono iniziati già ieri, martedì 2 gennaio. Oggi, mercoledì 3 gennaio, invece, è la volta della Valle d'Aosta, mentre in Sicilia si dovrà aspettare il giorno dell'Epifania, sabato 6 gennaio. In tutte le restanti regioni, invece, si partirà venerdì 5, come per la Campania. Solo pochi giorni e anche il Cilento, in particolare la città di Agropoli, potrà usufruire delle promozioni speciali che dureranno fino al prossimo 2 aprile. Sarà possibile dunque fare acquisti a prezzi scontati per qualche mese, in cerca dell'occasione più conveniente. Come ogni anno, molti ne approfittano per acquistare prodotti a prezzo ribassato e ciò a vantaggio delle attività commerciali, che in questo particolare periodo dell'anno vedono un incremento degli acquirenti. Le vetrine della città di Agropoli si coloreranno così di cartellini che riporteranno prezzi speciali e chi vorrà potrà fermarsi e magari acquistare quel capo d'abbigliamento che tanto desiderava. Bisogna avere un occhio di riguardo per gli sconti eccessivi, dato che potrebbero nascondere un capo difettoso o uno sconto non realistico. Fare bene attenzione a controllare il cartellino, che per legge deve contenere il prezzo originale del capo, quello scontato e la percentuale di sconto. Molto spesso, infatti, gli sconti pubblicizzati in vetrina, equivalenti al 70% e 50%, sono gonfiati e ben lontani da quelli effettivamente praticati. Inoltre, le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo tale da non essere confuse. Occhio dunque ai cartellini, poiché la truffa è sempre dietro l'angolo.